Ci troviamo a Caltanissetta con Manuel Bonafini, segretario regionale comparto forestali SNALF CONFSAL. Prosegue la battaglia dei forestali perché, lo ricordiamo, i centunisti sono stati sospesi e la campagna antincendio non è proseguita fino al 15 ottobre. Non solo disagi dal punto di vista lavorativo, ma anche disagi dal punto di vista dello stipendio. Come si sta muovendo con la regione siciliana? Perché è la regione siciliana che ha sospeso l'antincendio? Sì, noi abbiamo scritto agli assessori per reclamare che l'antincendio continuasse fino al 15 ottobre come previsto per legge, ma nessuna risposta è stata data all'organizzazione sindacale e ancora assistiamo a tutti i disagi che ci sono per controllare il territorio con bocche squadre, soprattutto per garantire assistenza ai nostri boschi al territorio siciliano. Questa è stata la parvenza del governo regionale e non riusciamo a capire perché ha deciso di sospendere i lavoratori. Il 15 ottobre ormai è arrivato, quindi ormai non si può fare più nulla. Ma perché lei vuole andare alla regione? Perché l'assessore Scilla ha fatto delle dichiarazioni ritenute importanti dalla nostra organizzazione sindacale che parte da una base di partenza per arrivare alla stabilizzazione di tutti i lavoratori forestali dichiarando di creare un contingente unico di base di 180 giorni. Noi riteniamo che come partenza sia una discussione da portare avanti e capire bene come ci arriviamo a 180 giornate, come verranno utilizzati i forestali nel territorio e come verrà strutturato il servizio andingendio perché ricordiamo bene l'aumento delle giornate dei lavoratori, ma alla base di tutto c'è la tutela della Sicilia, dei parchi archeologici, dei siti, del bosco che oggi ci siamo accorti che sono abbandonati a se stesso senza nessuna prevenzione e le somme che potrebbero essere utilizzate per garantire il territorio e mettere in atto una sana politica di stabilizzazione dei forestali vengono utilizzate per l'emergenza e risanare tutto quello che è stato distrutto che ricordiamo che ci vuole molto tempo per ripristinare quello che è stato bruciato. Ma la cosa ancora più importante che voglio mettere in evidenza è che finalmente viene rotto quel meccanismo di fasce di garanzia dei lavoratori forestali che hanno bloccato lo sviluppo di tanti lavoratori con la speranza di passare in una fascia superiore che è stato messo in arte per 30 anni questo meccanismo a cui oggi i lavoratori assistiamo con 78 giornate vanno in pensione, con una pensione misera con una pensione che non riuscirà a mantenere un reddito sufficiente per vivere questo è importante per noi ma deve essere anche importante che questi meccanismi che vengono utilizzati e sono stati utilizzati hanno prodotto sì una precarietà e messo in atto un meccanismo di assistenzialismo politico che è servito a qualsiasi candidato o candidati al regionale per attingere voti da una fascia di persone che hanno sempre chiesto di lavorare e di garantire l'assistenza per il proprio territorio quindi lei chiede la stabilizzazione una volta per tutte anche perché lo ricordiamo anni e anni di promesse diversi governi regionali che hanno promesso e non hanno mantenuto i lavoratori forestali in Sicilia sono tantissimi ora diciamo il numero e come abbiamo sempre detto in questi anni occorre la prevenzione durante tutto l'anno potrebbero essere impiegati in tantissime cose durante l'anno potrebbero essere impiegati anche nella manutenzione nei vari comuni del verde pubblico delle strade dissestate di varie opere di pulizia insomma servirebbero comunque assolutamente sì questo incontro serve in prima base a capire l'utilizzo dei lavoratori forestali e se va nella direzione auspicata in tutti quei servizi che oggi non vengono più garantiti per noi è importante questo non solamente le giornate ma è importante partire da una base di 180 giorni per arrivare alla stabilizzazione un altro dato i lavoratori forestali sono 19.000 c'è stata una riduzione notevole negli anni e se la regione sicilia avesse messo in atto una politica per il risanamento del territorio è stanziato sempre le stesse somme oggi i lavoratori forestali si troverebbero in una situazione di lavorare tutto l'anno invece ogni anno è sempre una novità all'interno della forestale la manutenzione si scendeva a febbraio oggi si scende a luglio solo per fare i viali parafuochi il ciclo produttivo dei boschi è stato abbandonato a se stesso